In occasione del quarto anniversario dell'inaugurazione del Santuario della Spogliazione, che ricorre il 20 maggio, domenica il Padre Vescovo ha presieduto la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore Santuario della Spogliazione. Venerdì scorso il Vescovo Domenico ha benedetto il cantiere e le maestranze all'opera per eseguire i lavori di recupero dell'antico episcopio. Infatti, con l'occasione di questo quarto anniversario, si è appena dato il al progetto di restyling del Santuario. L'intenzione è quella di riportare alla luce il Vescovado di Assisi come era 800 anni fa, con la riapertura dell'antica porta e l'individuazione del piano di calpestio dell'epoca del poverello di Assisi. Dopo la benedizione è stato dato formalmente il via ai lavori, alla presenza del Consiglio Episcopale e dello staff dello studio Alfio Barabani Architects, vincitore del concorso di idee alla riscoperta dell'antico episcopio. Un brillante progetto che interessa l'intero spazio del Santuario della Spogliazione ricompreso tra la Chiesa di Santa Maria Maggiore e il Palazzo Vescovile.